Comunque a proposito di rischi c'è Tanner Faust che tutti conosceranno No, io sinceramente no Guarda cosa ha fatto Hot Wheels che è il main sponsor della 500 Media Napoli ha ricostruito una pista, quella più famosa che si attacca alla porta la verrai anche tu con i tuoi figli Dimensione umana, guarda cosa fa questo ragazzo Tanner Faust Non ci credo Ti ricordi Hazard? Sì Questo davanti a 400.000 persone e poi si dice che gli americani sanno fare spettacolo Guarda qua, egli è andata benissimo 100 metri di volo record del mondo Guarda alla fine la macchina si intraversa egli è andata assolutamente bene che non ha capottato perché qua se partiva in carambola finiva veramente male però Tanner Faust è il mio eroe Mi sembra una storia per bimbi perché tu hai detto il gioco dei vostri figli poi la storia di Karts ci potremmo costruire veramente un racconto Sì, basterebbe anche un servizio per stasera Infatti è un modo subliminale per dire a Carlo di fermarsi Esatto Va bene Senti parliamo adesso di Perez Parliamo di Perez che sta bene Stato di Perez